A meno di un mese dal quarto anniversario della tragedia di Rigopiano, un nuovo scenario potrebbe aprirsi a seguito di uno studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Frontiers in Earth Science, affirma Tommaso Piacentini, Mogna Calista, Umberto Crescentini, Enrico Miccadei e Nicola Sciarra, docenti dell'Università degli Studi di Chieti. Secondo gli scienziati, le tre forti scosse di terremoto, ben due oltre il quinto grado della scala Richter e motivo per cui gli ospiti volevano abbandonare il resort isolato dalla neve causarono la valanga che alle ore 16 e 18 inghiottì l'hotel Rigopiano causando la morte di 29 persone. Lo studio è stato condotto attraverso un'analisi regionale multidisciplinare integrata, combinando l'analisi meteorologica e climatica regionale, l'analisi della sismicità, l'analisi della distribuzione delle valanghe e il confronto tra sismicità e valanghe nello spazio e nel tempo, prendendo ad esempio i casi aprile 2009 e gennaio 2017. Il terremoto, si legge nella pubblicazione, causa una iniziale frattura di taglio all'interno di una pressione strato debole. A causa di queste, le forze agenti nell'astrone che comincia a scivolare si distribuiscono modellando una nuova configurazione. Ad impressionare, nelle 30 pagine pubblicate in lingua inglese, sono i numeri delle valanghe registrate prima e dopo la tragedia. Se nel sessantennio precedente si erano contate da 0 a 70 valanghe, il 2017 rappresentò un'annata anomala quando si registrarono 76 valanghe, con un totale di 105 nei due giorni successivi e 115 alla fine dell'anno. A dare peso specifico alla ricerca, anche l'analisi fotogeologica che per la prima volta hanno documentato fratture e scarpate di origine cosismica che potrebbero contribuire a innescare la valanga, che probabilmente sarebbe stata liberata dalla parte centrale del pendio. Questo conferma il ruolo delle scosse sismiche nello sviluppo di queste specifiche valanghe, anche se con un innesco ritardato rispettivamente 135 o 32 minuti dai precedenti eventi sismici di magnitudo 5,1 e 4,3 per la valanga di Rigopiano. Le analisi di modellazione e stabilità 3D hanno fornito ulteriore supporto a come la scossa sismica sia stata responsabile dell'instabilità del cedimento e della deformazione della neve nella parte alta del versante del Montesiella e della valle di Rigopiano. Come detto inizialmente, questo studio con molta probabilità andrà a rimescolare le carte sul tavolo di un processo, ancora fermo nella fase preliminare e che alla ripresa il 15 marzo prossimo potrebbe favorire molti dei 29 imputati che potrebbero chiedere al gruppo una perizia sullo studio. Non si è fatto attendere il commento del Comitato delle Vittime di Rigopiano, i quali giudicano lo studio uscito in questi giorni l'ennesima spada di Damocle sulla vicenda. Questo studio, eseguito da geologi e sismologi che si sostituiscono ad un tribunale italiano e stabiliscono che la causa della valanga è attribuibile alle scosse sismiche, aleggiano in maniera inequivocabile quasi la soluzione degli imputati prima ancora delle celebrazioni del processo vero e proprio. Un colpo basso, ordito chissà per quali ragioni, continua il Comitato, ma del resto in questi quattro anni di colpi bassi ne abbiamo ricevuti in notevole misura e dopo ogni colpo ci siamo rialzati sempre più forti e con nuovi argomenti ed impulsi info-investigativi. I tre punti cardini dell'inchiesta sono e rimarranno sempre gli stessi, pulizia della strada e pienoneve fallimentare, ordinanze preventive di sgombro e sicurezza pubblica mai adottate, soccorsi all'ertà di ritardo.